Oggi siamo nei server di Mossa e tastiera Siamo a casa di Canzio Ora mi mette una screen da... Vediamo Guardate subito la live di Antonio, subito, si chiama Antonio Fischetti Lui che promuove il mio canale Sì, la ero in ansia Chi è? Chi sei tu della live? Vedi con Mossa e tastiera? Oh madre di Dio Dai, metto pronto E' uno sguardo d'amore E' il sogno nel cuore Mi sento morire Morire per l'aria No, 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 non lo dire E' il tesca Oh, te, ye, wei Tolgo un attimo le cuc... Ma non mi dire Allora, sei tu Ilaria, non l'avevo capito visto che mi esce Ilaria Pasqua qua Ti piace sto ballo? Sì, l'aria sono io Tu gioca, io leggo tutte le gioco Come fa Xyude... Però mi iscrive Come fa Xyude con la Pami Pfff... Due persone Chi sei tu altro? Chi sei? Commenta Attivo Commenta! La seconda persona commenti Mi VENDO! Mi VENDO! Ma cazzo io ho dato Xyude Tu altra persona nella live Ma aspetta, tu gioca! Chi sei? Ma se gioca? Mi VENDO! Io l'ho dovuta in giro Allora... Mi sento qui Allora... L'hai tolto? L'hai tolto? Lo sappiamo! L'hai tolto? L'hai tolto? L'hai tolto le cuffie in tempo Ilana, quando inizia la scuola? Domani... Deficiente Ma chi è l'altra persona? Altra persona in live? Chi sei? Dai la facciamo arrivare qui Vuoi scrivere? Come fa Xyude? Dai la facciamo arrivare Dai Pami Pami Sei brutto come la morte Vieni Un bacione a... Dilaria Sespo Sespo In onore di Ilaria Che... Lo ama Sespo Dove hai messo l'abino? Come sappi? Elvio Ciobello Santonio Sei Elvio e Lapo Sei Elvio e Lapo Sei Elvio e Lapo Ah, sta stacca Di che... Elvio, però devi... Devi scrivere Elvio, devi scrivere Elvio Perchè hai cambiato Team Elvio? No, no È tornato Gente è lì? Francia è... Zitto Sta sotto, sta sotto Ti ho messo mi piace Qualcuno può donare Qualcuno può donare Passaci Hai più oltre tanti soldi Non ci dicono queste cose in live Come ci si accovaccio qua? Come si accovaccio? Ho scelto No, questo è quel Minecraft Con Conto Che casino giocare da mossa te sia No, tu l'hai dovuto giocare No, tu l'hai dovuto giocare Stavo guardando che non ti arriva la giochina Stavo guardando Stavo guardando Stavo guardando Si sta giocando alla mia musicione Ecco E' venuto a casa mia Siccome la casa mia è sopra attrezzato E' una mira Antono un'Arme streamer è uno streamer ora gioca canzio allora salve che è mia madre di il mio caricabatteria col cane con la bestia Q colgiami col mio telefono mi sento ammalati devi chiamato fammi ti faccio il nome ecco ciao ragazzi gg ma raga facciare una singola siccome beh non è vero oh Antonio sta 1364 io ho 1500 bugie che 200 ne ho 1200 perché c'è il doppio dei numeri non lo so babush è uno allora ragazzi faccio la cosa no no Francesco no devo vedere complimenti canzio cosa che c'ha che c'è l'aria leggo io la c'è mai la pami non lo so pronto ti parto Francesco non lo so non lo so la pami non lo so che c'è da la pami Ilaria Ma però Apro Apri Vabbè Ciao Che è morto Antonio Anto ha detto Che sei scarso Ilaria Anto vedi Lessa una prisa Ma dai E carica il telefono Poi carica Oddio Allora Dov'è? Oh Guarda Mie mani Eh vi ho Non badare ma io sono forte Oh Eh si Ma fermo No no di No penso E' No veramente Che ti fa? Ah è infinito Eh certo Non mi cavi Sì Giocato col pass Col pass Perché? Sì 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 Qualque pass Sì 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 No Sì 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 Parti suoi Sì Sì Mamma se lo prendevi Ragazzi io ho cambiato connessione Dite se va bene la connessione Perché abbandoni la porzione? Singolo Singolo io E tu? Io di te Arena Tra vuoi schiare? Mk io Se vuoi anche tu Però io Mk C'è una cosa Ragazzi che dite? Arena Con mk Ilaria è mouse e tastiera Oppure Arena è il suo neo di arena Sì Oppure solo vi scordo solo vi coppia Sembra con mk Oppure con il controller Che facciamo? Sono un Mod Ah Però io c'ho otto iscritti E Otto sono Arena mk Dicendo Ave 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 Mk Dicendo Oddio Adesso Concentrazione Togli La live Posso commentare Sì Sono in tre Sono in tre Personato Eh sì Potete parlare ragazzi Vedo io la chat È malata la chat La due Scrive La che cosa Francesca hai detto i lai e io ti ho detto che vuoi Vabbè Dove andiamo No Pietro Cancio Dove andiamo Vabbè ma che se ne frego Ciao Eh Mk Detto È il È il È il Perché è mk È il Mk Però Francesco Giocatela In extremi Sare in game Contro Se arrivo Ma ci sei domani Sì Sì ci sono Sì ci sono È Suoi Don Usando Concentrazione Pro Z Un saluto A Cregrande Zero Sette Mag Mag Uno dei Capi Del mio Tim Molto E Di Pietro Ti ringrazio Tutte Due Non Più Mk Lo sai che sta Nei Servere Mk Lo so Sta Ma noi abbiamo La mira assistito No 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 Mi trovo Con la tua sensibilità Facciamo Porta Fortuna Perché c'è scritto Pietro Canzio È Niente È l'accanto Di mio padre Perché Voglio Acherare L'accanto Di mio padre Perché Che Lei sono Nuovo Di Poi Che Sto Ascrito Magma Francesco Non Pietro Canzio Ma C'è Un po' Pompaticolo Infatti Posso ordinare Le armi Infatti Pompaticolo Non si usa Così Pompaticolo Posso No Poi c'è Le cambi Dimmi C'è 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 Ah Oddio Soprattutto che non mi arrivano Oh Prova Cos'è No Si è bugato Cosa Guarda No No Ho fatto 5 Anzi Sì ragazzi Non può buildare Non posso buildare Prova di nuovo No Prova Ragazzi Una manna dal cielo Fai Fai Oh Cosa Ragazzi Invitate i vostri amici Parenti Cugine La live Eh Lo schiacciate due volte No 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 Non me la fa proprio La mi fa buildare Aspetta Vai Fai la build Io buildo Io buildo No No Io buildo Allora lui Spara Io buildo Lui cambia la costruzione Però io devo confermare la costruzione Elvio che ne pensi Eh si però Non ti devi muovere No Si è bugato Che bello però Vedita si è back up Allora so ma noi stiamo giocando Da mk ragazzi Bugia Sta giocando a controllo Devi spammare le due Devi camperare La save Non è vicino Vabbè ho due cose E il mio secondo te le usi nel game oppure adesso Per andare in safe Non le uso Due persone Che ne pensate da nuovo Per la skin delle armi Cioè ragazzi è uguale Vole all'acqua Non aspetta Non aspetta L'istogginia Ma chi sei Elvio Francesco Ilaria Allora io devo leggere Per forza dal telefono Perché Sulla play Si è sbagliato Comunque Ma chi sei Elvio Francesco Lui è Francesco Elvio squige In chat Di Pu 60 ragazzi 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 Ghi è Elvio E' meglio A K Oppure Assalto Bianco E' perché Vedi da lontano E' o la deagle No è madre La safe Sì ma una safe Vicino No Vai ma che No Antonio No 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 Antonio No 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 E' visto Usalo E vai sulla montagna Di margagini No No Ok Perfect timing Fermo Che fai Fermo Fermo Che fai Eh top 15 Una nuova top Niente Di cosa stanno scrivendo Eh top 15 Una nuova top Lo stanno scrivendo Perché non arrivo Ma ci boxiamo Ma Elvio sta giocando E' il gioco Eh infatti Vai C'è una persona In live Sono io Eh mandala Tutte Se ci arrivi In endgame Ha detto Elvio Elvio ma tu giochi Più 30 90 Ma sai live Allora Antonio Noi siamo Full Di legno Antonio 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 Che C'è Ora c'è L'Inter Dopo Tre Fermo Antonio Lascia Rompi E infatti Vai Trovano Soprano 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 Fai cerci Fai cerci Se no non si vede Gigi E parlo io Con te Ok Mi sentite Gigi Vabbè c'è l'Inter Elvio Facciamo Vede l'Inter No Francesco Fidati Mi hai Oh Asco No Francesco Ascolta Far vedere La safe Francesco Togli Staschermata Io ti cambio Le armi Anche Ti aiuto Sì Guarda Antono Però devi Buildare Antono Devi Buildare E se vuoi Dare Che ne So Io Non so Tu sei Oh Tasta Fermo Andiamo Andiamo in creativa Anche Toglie Anche 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 Questa Un'altra Ma Non so Tutto Il ferro Male Rocano La Tastia Nuova perché lì non esce più vai in creativa guarda davanti ai punti ferma cambia modalità non ci credo riavvia post riavvia post